amici oggi abbiamo un sacco di cose da dirci buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti spero siate belli carichi perché come vi dicevo ho un sacco di cose da condividere con voi novità lato dei fai notizie pillole insomma un periodo concitato da questo punto di vista mentre bitcoin come ben sappiamo dopo l'evento che c'è stato l'altro ieri il b world ha dato un attimo di colpo di reni e sembra volersi riprendere almeno sul breve ovvio non facciamo ragionamenti di lungo periodo parto con il buttarvi lì e vi chiedo anche che cosa ne pensate a tal proposito sia voi che mi state seguendo in diretta su twitch e siete sul pezzo sia coloro che saranno i soliti posteri che mi guarderanno su youtube lasciatemi un like che mi gasate i massimi e ditemi cosa ne pensate dei commenti di questa analisi mi ha fatto notare qualcuno di voi più volte nelle scorse live che a partire da gennaio quindi da dall'inizio dell'anno 2021 se noi confrontiamo l'rsi con il prezzo guardate facciamolo stare dentro al grafico così riusciamo bene a confrontare abbiamo sull'rsi un downtrend continuo non ancora o quasi spezzato mentre sul sul grafico come ben sappiamo inizialmente avevamo questi high in fase di indebolimento e adesso invece abbiamo una fase di downtrend quindi cosa possiamo affermare allora innanzitutto che vabbè qua lo sapevamo c'era questa famigerata divergenza e l'avevamo anche notata un po di volte però poi è difficile operativamente andare ad agire su di essa è solo un segnale di indebolimento del trend ma per evitare di fare dei discorsi col senno di poi che servono veramente a poco adesso soprattutto interessante vedere che l'rsi sta iniziando a mostrare dei segni di un minimo di ripresa quindi un possibile rimbalzo il che non vuol dire che si ritorna bullish ricordo però è una maggior probabilità quantomeno di respirare per qualche candela come potete vedere il minimo lo abbiamo raggiunto qua sotto in zona iper venduto molto forte durante il primo dump dopo proprio quella mazzata che c'è stata che vi ricordate abbiamo fatto un meno 50 per cento nel giro di pochi giorni rsi in iper venduto e così via da lì in poi c'è stata la fase laterale che sta perdurando tuttora con in realtà una tendenza a fare dei lower low in chiusura delle candele perché poi se consideriamo le shadow più o meno è un equal low abbiamo la nostra zona di domanda che abbiamo esaminato un sacco di volte mentre l'rsi al contrario guardate sta facendo per la prima volta degli higher low quindi si potrebbe leggere alla lontana come una piccola divergenza anche in questo caso ma più che quello a me interessa che si è interrotto almeno guardando i low il downtrend e al momento siamo entrati in una fase più laterale anche nell'rsi non è un segnale che a me fa proprio impazzire da dire operativamente vado a fare qualcosa se vedo l'rsi rompere a rialzo però sicuramente lo tengo d'occhio il che vuol dire andare a rompere questa trend line o meglio ancora andare a fare degli higher high sopra al 50 ve la volevo soltanto buttare lì perché appunto me l'avete fatta notare più volte e di fatto un po' di significatività ce l'ha visto comunque il trend che dura da molto tempo al di là dell'rsi la situazione su bitcoin la price action nuda come si suol dire anche lei suggerisce un po' di domanda finalmente guardate il giorno del beward una candela engulfing bullish che se ne mangia due rosse con dei bei volumi finalmente ha un massimo di volumi nel giro di due settimane e fortunatamente ancora più importante non c'è assorbimento immediato da parte dell'offerta nei giorni a seguire anzi se noi andiamo a vedere un po' al microscopio i movimenti che hanno seguito al pump stesso oddio abbiamo questo che non è bellissimo questa candela che non è bellissima rossa questa quattro ore che assorbe ha assorbito tutto il pump però dopo siamo rimasti comunque sopra alla zona riconquistata quindi non è malaccio bitcoin anche da un punto di vista grafico comunque i grafici come sempre li guardiamo meglio verso la fine della nostra diretta adesso iniziamo con la carrellata di cose che vi volevo dire e poi lascio la parola a voi e vi voglio belli gasati e belli carichi mi raccomando non è che vi gasate solo quando parli lo mask e poi scomparite no è guai a voi guai a voi allora iniziamo con un po' di DeFi dai già che ci siamo parliamo un po' di DeFi Parrot è un protocollo attraverso il quale è possibile fare il mining di una stablecoin che si chiama Pi utilizzando come collaterale USDC da oggi hanno lanciato la possibilità di collateralizzare con quella funzione che si chiama USDC più Earn in sostanza cosa si fa? si mettono sempre gli USDC all'interno di Parrot si mintano i Pi collateralizzando al 101% quindi più o meno il tasso è 1 a 1 e gli USDC che sono stati messi all'interno di Parrot rendono iniziano a rendere non ci sono ancora dei dati sugli APY non li ho trovati non li ho visti forse ancora presto per capirlo ma USDC a rendita su Parrot in cambio ottengo dei Pi questi Pi li posso andare a utilizzare ad esempio su Saber o su Mercurial che sono le altre due principali piattaforme DeFi adesso le rivediamo meglio su Solana stessa Pi è una stablecoin nativa Solana sovracollateralizzata e soprattutto collateralizzata soprattutto da stablecoin quindi non c'è un livello di rischio elevato tant'è che andando a fare il mining di Pi con USDC non esiste la liquidazione proprio perché il collaterale è al 101% in stablecoin USDC poi esatto quindi lo si può andare a mettere ad esempio nel pool Pi USDC per l'appunto che frutta un altro simpatico 21% è l'unico pool con USDC se non erro ok poi qui ci sono due nuovi pool quello con Serum e quello con iBBTC che è quello interest bearing se non erro non ricordo se era della piattaforma forse di, caspita cos'era, BadgerDAO devo verificare con Ren BTC e non male perché l'APY 63% devo vedere il pricing di IB BTC se è esattamente equivalente a BTC in realtà volevo farvi vedere Saber solo per il pool di Pi però hanno aggiunto anche qua delle nuove pool quella di Serum non mi interessa più di tanto su FTT nel frattempo è collassato l'APY perché sono entrati 6 milioni di dollari e quindi io mi sa che tornerò al buon vecchio staking a breve su FTX e bene questo pool invece è ancora carico quello sul tokenizzato Bitcoin su Wobi Ecochain HBTC e gli altri sono un po' sempre gli stessi poi ho visto che sono aumentati gli APY sui pool con UST la nostra amata UST di Terra TerraUSD e è stato aggiunto anche su Mercurial il pool con dentro UST niente male perché ha un 60% di APR attenzione non APY, APR e questo pool contiene USDT, USDC quindi le due stablecoin per eccellenza e la versione wrappata su Solana che è Wormall UST si chiama Wormall quella che wrappa su Solana e basta in sostanza qualcuno mi aveva chiesto ma come si fa a vendere i MER su Serum ad esempio adesso è possibile venderli andiamo un attimo a vedere ad esempio tramite Bonfida non so perché non mi ha salvato l'URL che è uno dei uno, eccolo uno delle UI di Serum attraverso la quale si può andare oh mamma mia i Perpetual non mi interessano i Perpetual niente come non detto mi ha aperto i Perpetual comunque no, vi volevo dire che aspettate, lo andiamo a prendere vediamo se ce la facciamo per dire che sul Dex Serum eccola qua dovrebbe essere questa no, no, non lo so eccolo, Dex dai che ce la facciamo ce la possiamo fare ok va bene sì, sì, sì accetto le regole mamma mia cos'è successo? perché mi richiede tutte ste cose? comunque se all'interno di cioè se da qui si va appunto a cercare il mercato di MER MER, eccolo lo potete trovare quindi in sostanza si può vendere da qua sia MER che Sabre che era SBR USDC eccolo qua perché qualcuno mi chiedeva ma se io farmo questi token dove li vado a vendere? perché effettivamente non sono ancora listati sui principali exchange e quindi l'unico modo è utilizzare la liquidità del Dex Solana che è appunto Serum comunque questo per dire che su Solana ultimamente ci si diverte ci sono degli APY molto validi e soprattutto sono sulle stable coin che insomma non fa mai male poi ritornando invece al mondo Polygon io adesso vi dico la follia che sto facendo in questo periodo ve ne avevo già parlato cos'era una settimana fa forse e sto continuando a giocare un po' con questo Dex si chiama Dino Swap uno lo vede e dice cos'è sta scammata è un ragpull sicuro domani sparisce ma in realtà come vi avevo raccontato ci sono dietro un po' di venture capital quindi non c'è il rischio di ragpull o meglio non si sa mai però se una piattaforma finanziata da dei venture capital dovesse rugare lasciatemi pur dire che per quei venture capital non è finita ma quasi insomma non credo che accadrà e di conseguenza come operatività ad alto rischio parliamo sempre di alto rischio ho deciso di andare a farmare in questa pool mi viene da ridere Dino USDC e adesso vi spiego anche il motivo allora Dino è una shit coin gigante non ho intenzione di investire in Dino questa è una di quelle operatività tendenti quasi al gambling però è una di quelle coin che sono state vendute appunto ai venture capital e soprattutto per loro c'è un blocco di 12 mesi e quindi io ho detto boh avranno interesse a tenere a non far dampare più di tanto il prezzo questo è un ragionamento malato che ho fatto ovviamente non puoi predire il futuro e essere certo che il prezzo non damperà solo perché ce l'hanno i venture capital però se dall'altra parte ci mettiamo l'APR del 1100% che vuol dire il 3% al giorno posso anche sopportare un po' di dump ecco quindi ho detto ma sì buttiamo via un po' di soldi ho ragionato in questo modo e poi ovviamente cioè in realtà quello che sto facendo adesso è che quello che guadagno andando a farmare lì dentro che è ovviamente in Dino perché paga in Dino questo Dex lo vado a rimettere all'interno di questo pool ci ho preso un po' troppo la mano e devo starmene buono però insomma finché vedo che il prezzo bene o male si sostiene la liquidità rimane continuiamo pure a giocare poi inizierò un exit strategy che sarà un banale DCA in uscita quindi uscire un po' alla volta e basta per adesso insomma non sta andando affatto male anche perché un 3% al giorno con compounding diciamo che è abbastanza succoso don't try this at home mi raccomando è un'operatività pendente al gambling ve l'ho detto ho detto vabbè proviamoci altissimo rischio la punta della piramide che abbiamo visto un po' di tempo fa però mettendo insieme quelle due o tre cose di cui vi ho parlato prima ho detto vabbè dai andando a bilanciare possibili rischi e possibili rendimenti secondo me ci può stare l'opportunità c'è e basta poi passando invece a notizie più fondamentali e meno DeFi tecniche eccetera abbiamo da un lato il nostro Goldman Sachs che è diventata la prima banca a offrire alla clientela retail ad alto comunque alto capitale perché si parla sempre di family office la possibilità di investire in cinque fondi cripto i principali dei quali sono i grayscale quattro fondi grayscale il quinto non so quale sia non ho ben visto però vabbè è una notizia così pur parler giusto da condividere niente di trascendentale anche perché prima o poi lo faranno tutti e adesso stavo leggendo mi è venuto in mente proprio per questo che guardavo un attimino le notizie prima della live e vedo che vuole andare a utilizzare degli ETP anche sempre la stessa Goldman Sachs e anche a fornirli e ad alimentarli la cui sede diciamo la cui base operativa sarà in Europa vediamo sono curioso di vedere come si muovono queste cose da un punto di vista proprio di regolamentazioni giurisdizione e anche erogazione di nuovi fondi intorno alle cripto poi abbiamo C98 che lo sto ve l'ho riportato solo perché so che me l'avreste chiesto non ho ancora letto le domande ma sono sicuro che qualcosa a riguardo c'è che cos'è è il nuovo launchpad di Binance che c'è stato su Binance e io non ho partecipato non sono riuscito purtroppo mi è andata di sfiga stavolta e in sostanza che cos'è è la coin di coin98 si chiama che è un wallet nonché piattaforma di aggregazione di liquidità questo vuole essere in realtà non ho esaminato più di tanto il progetto perché non mi interessa granché nel senso sapete bene come la penso io sulle coin nuove ne ho listate e non farò eccezione proprio oggi infatti io volevo anticipare la vostra domanda che immagino sarà ma conviene buttarci un cipino ecco la mia risposta è sinceramente io penso di no perché diventa anche questo una scommessa si tratta di una coin uscita oggi stesso una coin che non ha nessun tipo di storico del prezzo come vedete dal grafico e quindi e lo stesso vale poi lato fondamentale è appena nata appena stata integrata diamogli un po' di tempo vediamo cosa combina e poi quando il progetto ha preso piede e abbiamo un minimo di valutazione storica ci ragioneremo su per adesso io ne sto assolutamente fuori e ve lo dice uno che farma Dino quindi andate a prendermi sul serio poi Immutable X Immutable X in realtà si pronuncia è un layer 2 di Ethereum sul quale soprattutto girano piattaforme di NFT è stato pensato soprattutto per gli NFT ve ne parlo perché non perché è appena uscito è una piattaforma già esistente da tempo e perché è uscito il loro token ieri se non erro ieri o l'altro ieri e quindi potrebbe essere interessante vedere come viene accettato dal mercato perché la tokenomics è semplice lo si può mettere in staking in sostanza e gli staker ricevono una parte delle fee che vengono pagate da chi utilizza la piattaforma linearissimo come modello il 20% delle fee su Immutable X vengono pagati in IMX il resto in ETH chiaramente e addirittura se per l'utente che non ha voglia di comprare IMX perché dice io ho già ETH perché devo anche comprare IMX per le fee lo cambia automaticamente tramite un pool di liquidità un DEX e quindi genera comunque domanda pago in ETH in parte me li converte in IMX di questi IMX una parte finisce nel pool destinato agli staker modello ripeto molto semplice ma interessante e poi guardate perché ci sono degli airdrop quindi chi ha avuto una carta di Gods Unchained che è uno di quei giochi su Ethereum che è girato proprio su Immutable X ha diritto a una carta a un sì una carta ciao a un airdrop di token e alla fine del periodo Alpha Rewards che è spiegato poi bene nel post come funziona in quest'altro post di annuncio in sostanza tutti coloro che avevano anche in questo caso una carta di Gods Unchained hanno diritto a un altro airdrop di misura minore di quello precedente perché quello precedente è dedicato soprattutto agli early adopter super early adopter in sostanza se avete interagito in qualche modo con la piattaforma la Chaining Layer 2 Immutable X tramite Gods Unchained dateci un occhio perché probabilmente vi spetta un bel succoso airdrop ultima notizia o no ho chiuso mannaggia aspettate tac bene l'ultima notizia di cui volevo chiacchierare con voi è il caso BlockFi versus regolatori ma avete scritto in tanti dicendo ma questa storia di BlockFi come la vedi c'è da spaventarsi c'è da scappare solito panico no? un po' anche cosa è successo? è successo che BlockFi ha avuto da dire contro alcuni uffici dei procuratori generali di alcuni stati nello specifico New Jersey Alabama e Texas se non ricordo male che gli hanno detto siete una security dovete regolamentarvi come tale smettetela di fare aprire nuovi account di rendita agli utenti dei nostri stati BlockFi ha risposto dicendo guarda che ti sbagli non centriamo un tubo con le security noi siamo pienamente regolamentati lo siamo sempre stati dialogheremo adesso con voi quindi si stanno accordando penso sul da farsi e abbiamo intenzione di continuare a offrire il nostro servizio quindi che cosa ce ne torna in tasca a noi? a noi niente nel senso per noi non cambia assolutamente nulla questa è una cosa che ha a che fare alcuni stati dell'America quindi alcuni degli stati uniti questi tre per ora nello specifico BlockFi sta portando avanti una conversazione proprio orientata al chiarire il loro punto di vista al chiarire la loro posizione e capire se dovranno regolamentarsi oppure no sicuramente BlockFi che ha sempre agito nella massima trasparenza non è uno di quelle piattaforme che hanno una sede a Cipro una nelle Seychelles una chissà dove è sempre stati in America e quindi ha interesse comunque a portare avanti questa sua bandiera di piattaforma regolamentata pulita e trasparente di conseguenza continueranno in questa direzione e ci aggiorneranno sul da farsi al di fuori di questi stati non cambia nulla in questi stati per ora non cambia nulla il peggio che potrebbe succedere è che non si possono aprire nuovi account e lo stesso Zac Prince che è il fondatore di BlockFi conferma dicendo che tutte le comunicazioni con i regolatori contengono espressamente i termini che dicono che le operazioni per gli account già attivi già creati continuano e quindi questo è un po' il punto della situazione niente panico anche in questo caso perché non c'è nulla di cui preoccuparsi filtrate sempre quegli articoli quelle notizie quelle non lo so anche i video qualsiasi cosa che incentivano il panico scappate via da no non succede niente non è successo assolutamente nulla bene adesso direi che tocca a voi secondo me più che altro qualche banca centrale qualche duno sta rosicando perché dicono caspita questi hanno dei rendimenti che noi ce li sogniamo e stromettiamoli altrimenti nessuno investe più nei nostri buoni del tesoro allora è il momento delle domandozze quindi partiamo dall'alto come al solito e andiamo a vedere che cosa avete di bello da dire da chiedere l'RSI considera le chiusure è vero è vero è vero considera le chiusure quindi lower low sulle chiusure higher low sull'RSI vediamo un po' come andrà a finire quindi la divergenza c'è e come dunque anche perché il 20% è una follia che non sta in piedi dunque qui di che cosa si stava parlando di qualcos'altro guardate la candela giornaliera di Ethereum USDT per me torna giù andiamo a vedere subito subito come mai ma no guarda che torna giù ha fatto un oddio non è proprio improntato benissimo come grafico perché abbiamo questi lower low per il momento e adesso effettivamente c'è questa candela che è un po' tutta shadow quindi non è delle più belle che abbia mai visto però è un po' presto per dirlo dai anche qua c'è stato il colpo di reni tac abbiamo superato abbiamo mangiato una bella fetta di candele rosse precedenti adesso eh bisognerebbe continuare magari stornare un po' e poi continuare fare un higher high fino ad allora sicuramente non è una situazione in cui andare a cercare delle posizioni rialziste però neanche da dire adesso torniamo giù non è ancora detto è presto è presto per dire qualsiasi cosa insomma buonasera Luke finalmente una live dopo un mese di contrattempi speriamo sia un mese di candele verdi sempre sul pezzo speriamo dai speriamo beh incrociamo le dita poi domandozza per te ho visto che nei giorni precedenti il landing su BNB dava almeno il 30% oggi sceso all'8 forse perché tutti li avevano presi per il launch pool di C98 a spanne sai quanto potrebbe essere l'APY landing BNB su FTX con tutte queste oscillazioni allora 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 beh dipende cioè il landing dove su Binance intendi sicuramente il fatto dell'avere l'incentivo dato dal launchpad che più BNB possiedi e più probabilità hai cioè più allocazione hai poi su C98 avrà fatto il suo aumentando i tassi però ovviamente non bisogna guardare quello per andare a valutare quello che può essere l'APY medio tendenzialmente chi prende in prestito i BNB lo fa o per shortare o per coprirsi o per operatività di questo tipo quindi ripeto bisogna un po' vederlo in una situazione normale normale poi è una parola relativa perché adesso è tutto talmente spento che gli APY si sono veramente appiattiti anche nel landing anche quelli delle stable coin però vediamo adesso questo è un po' il bottom domandozza su Terra Luna ci hai investito alla fine non ancora ma sto strutturando una strategia d'entrata poi Luke finalmente hanno listato SBR su Serum claim and sell ma c'è da un po' SBR su Serum prima forse si chiamava Saber per esteso Saber proprio sì io di solito faccio così farm and dump non sono uno di quelli che holda i token farmati ad eccezione di Dino perché è troppo goloso l'APY per mi ispira di più detenerlo che dumparlo un metodo comodo per portare Luna su Solana allora fammi vedere se il buon FTX ti può aiutare in tal senso allora vediamo Wallet Tac Luna no purtroppo no purtroppo no quindi ci vorrebbe Solana Wormall si chiama mi pare se non ricordo male eccolo qua eccolo qua allora non mi ricordo da dov'è che ci si accede però prova a cercare questo questo è il ponte che porta da ERC20 a Solana e quindi se si ha il Wrapped Luna su ERC20 si dovrebbe riuscire a portare su Solana in maniera abbastanza semplice poi sto usando il doppio farm short e long per stare tranquillo sulla possibilità di liquidazione ma se un asset sale fino a liquidare uno short o viceversa come funziona? so che pareggio con il long ma attenzione si non ti devi far liquidare se vai vicino alla liquidazione aumenta il collaterale perché altrimenti se tu ti fai liquidare lo short non hai più lo short ti viene per l'appunto liquidato non deve succedere non deve assolutamente succedere un buon investimento ora come ora e guarda ce ne sono dipende dipende tutte le cripto potenzialmente sono buoni investimenti dipende da che cosa vuoi cercare cioè mi viene da dire bitcoin ethereum e poi quelli che piacciono a me li conoscete bnb ftt luna la defi sono un po' i soliti dipende poi dalle opinioni personali cioè investire è una cosa molto molto personale hai visto che panchixwap ha aggiunto le pool stake cake earn c98 e axs allora andiamo a vedere avevo visto che qualcosa era stato su axi avevo visto anche delle spl se non erro andiamoci a dare un occhio farms allora allora che eccolo c98 c98 bnb con un apr anche abbastanza succoso ma secondo me non durerà a lungo di solito non durano a lungo questi apr e l'altro dicevi axs ma forse tu parlavi proprio di axs bnb però però niente male solo che se è nuovo poi la liquidità aumenta e di solito l'apr cala mentre nei pool ah eccolo qua earn axs mettendo in staking i cake niente male e viceversa earn cake mettendo in staking axs e earn c98 a questi dicevi bene interessanti ma tendenzialmente i nuovi pool e i nuovi farm sono sempre molto validi per in termini di apr infatti se si riesce a entrare presto e rimanere dentro i primi 2-3-4 giorni magari con una coperturina short non è male come strategia per Pancake Swap poi sto iniziando a sperimentare con Solana e volevo chiederti quanto sia rischiosa questa piattaforma considerando che è in beta guarda mi stavo chiedendo giusto oggi come mai come si dice la non sia mai successo un exploit su Solana finora eh almeno se non erro e non lo so non so se è perché è più complicato da programmare se è perché c'è dietro Sam che spara a vista tutti coloro che provano a fare un exploit non te lo so dire però per il momento statisticamente è quella che sembra più sicura non c'è un granché di APY su Saber per Pi forse conviene di più mettere direttamente USDC su Saber ma dipende perché poi considera che se tu vai a mintare Pi hai anche il guadagno del mining di Pi quindi hai sia l'APR di Saber che quello di Parrot stesso che però non so quant'è non so quant'è Dinoswap pompa di brutto soprattutto su USDC e non ci sono dei brutti pulli sopra e poi ripeto non essendo a rischio rag non mi dispiace ma se metto nel ledger le crypto non posso metterle in staking giusto? devo lasciarle sull'exchange? allora dipende perché in realtà direttamente dal ledger tu puoi utilizzare alcune piattaforme DeFi ovviamente non puoi andare a utilizzare le Cefai oppure lo staking su Binance quello ovviamente no però le DeFi assolutamente sì e lo stesso vale per i DEX però attenzione che se tu utilizzi una piattaforma DeFi non è che hai ancora le tue coin sul ledger cioè le coin vanno a finire sullo smart contract in questione e quindi un rischio c'è anche se comunque non legato a una terza parte è legato allo smart contract a proposito di DeFi cercavo qualcosa di alternativo a Pancake su BSC MDEX non è utilizzabile in Italia perché non è utilizzabile in Italia MDEX? da dove è saltata fuori questa cosa? è che non è utilizzabile in Italia cosa è successo? è arrivata la Consob? no? io fino a pochissimo tempo fa ci accedevo tranquillamente non lo so è cambiato qualcosa? MDEX.com non lo so vabbè non lo carico ah no eccolo infatti non ci sono particolari problemi tra l'altro è una piattaforma estremamente valida quindi adesso c'è da collegarsi e tutto ma è una piattaforma molto valida MDEX direi grande Luca ci gasi sempre anche in ferie sì ormai è periodo direi che è periodo nessuna domanda solo un sentito ringraziamento per il tuo fantastico lavoro contenuti molto approfonditi ci proponi quasi troppe cose mia moglie ti reputa una cattiva compagnia ma non prendertela ci credo perché per colpa mia adesso stai farmando su Dino pure tu e poi spiega glielo a tua moglie dove sono i nostri soldi? perché non andiamo in vacanza? e sai è tutto sul pool Dino USDC eh vabbè allora c'ha ragione devo ammettere che c'ha ragione poi vero sta rimanendo stabile l'APR reale anche perché se l'APR scende lentamente c'è il token che sale esatto esatto cioè alla fine è il 3% al giorno stiamo parlando di cosa stiamo parlando? ovviamente se Dino dumpa è un disastro perché c'è l'impermanent loss c'è l'esposizione a Dino è un pool dove sei esposto a Dino però col 3% al giorno assorbi molto molto bene bisogna far bene i calcoli c'è Luca una domanda da ignorante sto testando un pool di fine devo togliere la liquidità prima che termini? ma no non succede niente se lasci la liquidità va poi in quelli inattivi e tu la puoi tranquillamente togliere non c'è nessun tipo di rischio non ci sono più le ricompense sono quelle che terminano non te ne preoccupare allora ciao Luke sto cercando di imparare più cose possibili su questo mondo e ho una domanda quali contenuti gratuiti in italiano mi consigli di visionare tuoi o non ho già spulciato qualcosa sul tuo canale ma ci sono cose che non capisco ciò che so è che questi asset non devono restare fermi altrimenti ci si perde delle opportunità come quelle della DeFi allora guarda non avere fretta di voler fare tutto e subito perdere delle opportunità studia con calma parti dal capire che cos'è Bitcoin come funziona Bitcoin basta che cerchi in giro ci sono un sacco di contenuti in italiano in inglese cerca tranquillamente come funziona Bitcoin che cos'è Bitcoin se mastichi un minimo l'inglese cercalo anche in inglese e poi una volta che hai capito cerca di capire magari anche Ethereum magari anche la DeFi come funzionano le piattaforme di lending come generano rendita se sono rischiose o non rischiose io su quello ho un sacco di contenuti ti posso dire se vai sul mio canale nell'home page ci sono tutte le playlist tra l'altro dedicate proprio a come si dice a dei topic specifici come le rendite DeFi Cefai gli exchange insomma io partirei tranquillamente da lì se non ti interessa il trading c'è comunque tanta roba che può essere appunto di tuo interesse lo stesso poi conviene lasciarla attendere che finisca poi togli tutto e c'è ti reward vest ed esatto infatti non c'è nessun rischio a lasciare la liquidità lì poi mi sembra giusto farmiamo Mer e poi la si venda il miglior offerente esatto cosa ne pensi della piattaforma Polycrystal e delle ottime APY che offre affidabile Polycrystal non la conosco non conosco proprio non conosco proprio domanda qual è la miglior piattaforma DeFi fino ad ora per te allora dipende cosa intendi per migliore se intendi migliori compromessi sicurezza rendimento c'è sicuramente Curve che adesso c'è anche su Polygon AVE non rende più granché in un periodo storico come questo dove non c'è tanta domanda per la liquidità poi che cosa abbiamo di bello su Shiswap che ogni tanto c'è qualcosa di interessante su Solana vi ho detto ci sono Saber e Mercurial niente male poi c'è Terra con Anchor Protocol che adesso è veramente spaziale poi cosa abbiamo di bello fammi pensare su Polygon c'è Quickswap che anche quella è veramente ottima avevo fatto anche il video dedicato a quelle pool deposite dimentica proprio per chi vuole andarsene in vacanza senza pensieri anche Define avevo citato proprio perché offre i PY interessanti anche sui pool di Stablecoin poi c'è PancakeSwap che è un must insomma è lungo l'elenco la Define sta crescendo a una velocità pazzesca ciao Luca ho fatto una combo con i tuoi refer ledger più crypto.com ma i 25 dollari bonus sono bloccati automaticamente in CRO perché dall'app wallet non arrivo a spostarli e sull'exchange non li vedo sì i referral di crypto.com li da quando uno mette in staking i CRO per avere una delle carte premium lì te li sblocca e ci puoi fare quello che vuoi volevo chiederti come chiudo definitivamente Binance il sito mi propone solo di disattivarlo volevo poi riaprirlo col tuo referral sai che non so se si può fare una cosa del genere perché se tu chiudi l'account ho paura che quando rifai il KYC ti rompono un po' le scatole attenzione a fare una cosa del genere perché te ne potresti pentire e lo dico contro il mio interesse proprio per via del referral ti conviene aprirlo a nome di qualcun altro a questo punto in queste settimane effettivamente un mercato di mer esatto tra l'altro col mio referral di Binance facciamo la scillata già che ci siamo 20% di sconto sulle fee per sempre per sempre ragazzi non so se mi spiego a quando la pool con gli orsacchiotti come i dinosauri adesso ci sono pure gli orsacchiotti ci manca solo quello ciao Luke conosci Yield Up? Cefai nata da poco l'ho vista ma non l'ho approfondita più di tanto forse dovrei a proposito di Cefai è una che ho approfondito perché me la menzionate voi spesso e che mi sta piacendo molto e quindi penso che tratterò proprio perché la reputo estremamente valida è Swissborg quindi state sul pezzo che presto arriva anche lei allora allora c'è un Luke tra breakout falliti pullback che non arrivano o peggio ancora che diventano reversal e conferme che arrivano troppo tardi è una giungla piena di insidie l'unica certezza e arma che abbiamo è il money management spero che il messaggio arrivi specialmente ai nuovi dici bene Giuseppe è fondamentale è la cosa più importante in assoluto il money management se uno fa trading deve contenere le posizioni gestirle dimensionarle in base a una strategia ben definita proprio perché come dici tu adesso i trade gli stop loss saltano veramente come come mosche come mosche saltano ho visto anche ho visto che anche su bifi finance c'è un pool con dinoswap cosa ne pensi è sicuro allora qual è aspetta andiamo a vedere su bifi è una buona piattaforma mi permetto di dire andiamolo a vedere il pool quale c'è effettivamente non ci ho guardato non ci ho guardato su bifi non ci ho pensato di dare un occhio anche lì allora volevo andare a vedere polygon anche perché mi piaceva gestirmelo a me da me l'autocompound su su dino andando a vendere nel momento in cui volevo staccare vendere andare appunto a iniziare a dampare allora il nostro iron swap immancabile che ormai ha ripreso ad andare alla grande dov'è 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 dino usdc eccolo qua è lui è lui con sushi swap 1,04 miglia sì non è male è abbastanza però lui si ti fa l'autocompound da solo e 0,1% di withdrawal fee che è praticamente inesistente niente male ti fa l'autocompound da solo in sostanza anziché fartelo tu non è male cioè poi appunto bifi a una piattaforma comunque sicura e quindi ci sta l'unica cosa è che appunto se poi vuoi fare un DCA in uscita bisogna tirare fuori da lì e il token LP lo tiri fuori appunto da bifi vai a togliere un po' di liquidità e vendi è esattamente la stessa cosa anzi abbastanza comodo direi cos'è una DCA in uscita? è una DCA in uscita in sostanza è un pack al contrario cioè ad esempio io ho tot liquidità supponiamo lì dentro e ogni giorno ogni settimana ne tiro via il 5% questo è un DCA in uscita detto in maniera molto semplice e butta la casa sudino tutti all in su fossil swap esatto bene adesso vi ho fatto fare i degeneri lo so lo so che sarà colpa mia ciao Luke domandozza vorrei iniziare a capire come operare nella DeFi vista la piccola somma che andrai a investire secondo te qual è il modo più semplice con MenoFi per spostare crypto da crypto.com immagina una piattaforma DeFi allora da crypto.com e dipende perché con una somma bassa ti direi di iniziare con Polygon che è dove ci sono buone opportunità e pressoché inesistenti ti direi di utilizzare stavo pensando ad alta voce mi pare che non puoi ancora prelevare sulla blockchain Polygon sul layer 2 Polygon da crypto.com potresti fare prelevare su Ethereum e poi passare attraverso il bridge alla Chainmatic non lo so vi viene in mente altro a voi ditemi ditemi pure perché a me viene in mente quel passaggio lì principalmente ci ho preso tante di quelle rug pull su quelle piattaforme che non le consiglierei a nessuno dai raccontaci raccontaci secondo te è meglio farmare PS su Ellipsis per poi metterli in stake loccandoli per tre mesi oppure damparli subito farmando direttamente su Bifi guarda io gli EPS sinceramente non non mi piace granché anche perché il grafico è abbastanza brutto vedi abbastanza brutto quindi io sono più per il farm and dump su EPS come su Curve come su tante altre quindi opzione auto compound assolutamente ancora aspetto il video su Alpaca entrassimo in bull market sarebbe una bomba shortare OSD a manetta farmando ma su Alpaca cioè non c'è moltissimo da dire in realtà e poi soprattutto è molto pericoloso per quello lo tratterei con le pinze vediamo vediamo magari magari facciamo un altro pacchetto di piattaforme DeFi trattate in un video vediamo sembra che le stablecoin ancorate all'euro stiano iniziando a sbucare Tether ha annunciato EURT terra la sua stable ancorata all'euro quale conviene detenere ma guarda il fatto è dove vengono poi integrate perché se ci fosse la stable di terra ancorata all'euro su Anchor godrà in una maniera incredibile perché finalmente possiamo ottenere una bella rendita senza il discorso di come si chiama di di essere esposti al dollaro e sì bello molto bello Luna sta performando non l'ho più guardata Luna sai andiamo a vedere un po' il grafico di Luna BTC che sta succedendo tra l'altro ma niente vedo un po' di rosso e io sclero allora Luna e potrebbe questo potrebbe essere un un pattern accumulativo adesso incrocio non voglio gufare però abbiamo rotto questo bel questa bella resistenza trasformandola in supporto adesso ci troviamo all'interno di questo range e quindi lateralizzare qui dentro potrebbe essere vedete un bel sintomo di accumulazione per poi ripartire qua sopra sarebbe anche un setup long ma io sto cercando di un entry strategy per dedicare una fetta del mio portafoglio a Luna sul medio termine quanto meno è una coin ragazzi che veramente mi sta mi sta facendo incuriosire e avvicinare sempre di più al mondo al mondo terra io non so se avete mai provato Anchor ma una volta che provi Anchor una fluidità e semplicità del genere nella DeFi è difficile trovarla veramente difficile agli holder dei gods viene dato ah interessante interessante Luke un altro saluto dalla splendida Grecia sono appena tornato dalla spiaggia ma perché vi volete far rosicare così? perché me lo spiegate? occhio ai livelli chiave di Bitcoin DeFi a rudo per coprirsi ti recupero su YouTube più tardi bavo bavo sai sporco di sabio ti detesto comunque guarda su Bitcoin io continuo con i miei ribilanciamenti non ho ancora coperto nulla con lo short e posizioni di trading non ne sto aprendo quindi veramente una rilassatezza come poche DeFi DeFi a rudo dici bene quello che sto facendo sto farmando Dino sto farmando Dino cioè vi rendete conto di come come sono finito come mi sono ridotto allora Torchain ha subito un altro exploit altra notizia importante giusto 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 Torchain è stato bucato ancora per tra l'altro gli hacker hanno fatto questo attacco solo come avviso hanno detto poteva fare molto peggio sappiate che avete questa debolezza Torchain è un sistema estremamente complesso è uno dei più complessi che esistano è l'unico crosschain senza andare a wrappare le varie coin per adesso se vogliamo usare Bitcoin sulla blockchain Ethereum per la DeFi c'è quello wrappato Torchain ha i liquidi tipo misti misti e quindi utilizza delle sorti di ponti locali per andare a fare poi gli scambi è complicatissimo c'è un video fatto molto bene di si chiama Fine Fine non mi ricordo come aspettate che ve lo condivido perché ne vale la pena davvero guardare i suoi video ce l'avrò sicuro anche in home page perché a me li guardo eccolo qua Fine Fanmatics questo qui veramente veramente un bel canale vi consiglio di guardarli questi video perché sono fatti molto bene si capisce sono veramente a prova di chiunque sono in inglese l'unica cosa ed era molto bello quello su dov'è che me l'ero sparato tutto tra l'altro Torchain eccolo qua Torchain Explained veramente bello fa capire esattamente come funziona complessissimo come come ecosistema piattaforme chain e quindi ha una maggior probabilità di di attacco cioè ci sono molti più punti attaccabili e vulnerabili siamo all'inizio ragazzi è una tecnologia nascente è una tecnologia che sta cioè si sta evolvendo e la sicurezza purtroppo all'inizio ci sono gli ipy le opportunità maggiori ma la sicurezza ovviamente è come si dice è quella che è è quella di una coin di una piattaforma che ancora non dico in beta ma è in uno stato primordiale Selsus ha cambiato le politiche passerà alle leggi di New York se non accetti entro il 5 agosto perderai l'accesso all'app e potrai prelevare fondi solo contattando l'assistenza sì ho visto ho visto ma non non succede niente cioè nel senso non cambia niente per noi cambia la sede che prima era a Londra se non erro di Selsus e adesso è nel Delaware mi pare quindi si è spostata lì penso per le politiche dell'FCA verso le crypto insomma ci sarà qualcosa del genere basta tutto lì non cambia assolutamente nulla Selsus è un'altra di quelle piattaforme che mi piacciono perché molto trasparenti molto ben ben strutturate ecco non sono esotiche amici io sto vedendo che il tempo scorre e i grafici ancora non ce li siamo filati quindi è ora è giunta l'ora allora il nostro bitcoin abbiamo visto come si sta comportando abbiamo visto che da un lato c'è questo bel colpo di reni però affiancato a un lower low quindi per il momento il trend dei lower low non è ancora invalidato c'è l'RSI a sostegno adesso dobbiamo vedere se questo abbiamo fatto il low reclaim prima cosa dei 3.000 31.000 scusate 600 se questo low diventa un trampolino per rimbalzare e andare a zuccare un po' più in alto bene perché comunque è un segno di voler recuperare un po' di terreno e magari di propagare il movimento sull'onda delle nuove notizie dal B-World quindi di Elon Musk che ha detto che Tesla in futuro riaccetterà Bitcoin se diventerà più pulito del fatto che Jack Dorsey ha detto che Twitter si integrerà sempre di più con Bitcoin ragazzi sono notizie della madonna permettetemi di dirlo cioè soprattutto quella di Twitter immaginatevi esporre Bitcoin a tutto il pubblico di Twitter è una roba grossa e quindi secondo me i fondamentali sono sempre galoppanti lato grafico ve l'ho detto abbiamo da recuperare ancora un po' di terreno se questo dovesse diventare un bottom locale quindi consolidiamo un po' qua e poi ripartiamo abbiamo da attaccare come abbiamo visto nelle ultime live sono sempre quelli livelli 34.600 il nostro precedente low settimanale che se lo recuperiamo è una gran bella cosa poi abbiamo sempre sul daily questo lo abbiamo visto 36.200 e vi confermo tac guardandolo da qua 36.200 se ce lo andiamo a recuperare anche questo potrebbe far da trampolino per poi estendere ancora un po' e attaccare la resistenza finale 40.000 se rompiamo i benedetti 40.000 propaghiamo ancora perché usciamo da tutto questo blocco andiamo a prendere altre liquidità prendere altri stop bisogna sempre fare un'attenzione pazzesca ai falsi break motivo per cui io sciorto di copertura non ditelo a nessuno se arriviamo qua perché questa è l'area è un'area un po' vuota in questa area vuota 42.000 44.000 sostanzialmente cioè io mi aspetto un retest in qualche modo morirò aspettandolo di sicuro però mi stupirebbe c'è un vuoto completo non abbiamo mai fatto nulla in questa zona e di solito un retest arriva attenzione perché essendo questa un'area palesemente piena di liquidità appunto è facile che la si vada a cercare per riempire gli altri short per fillare gli altri short e quindi appunto questo è un po' il quadro generale i livelli chiave sono questi per propagare il movimento e quindi questo è un po' il caso in cui questo davvero possa essere un low locale e c'è la possibilità di andare a respirare gli approcci sono due o andare ad aprire dei long sulle varie situazioni addirittura già adesso c'è un setup long per gli anticipatori cioè long con stop loss qua sotto abbiamo un v-shape e quindi quei v-shape di solito sono sempre carini per aprire dei long in anticipo ripeto sono anticipatori al contrario possiamo aspettare altrimenti il reclaim del livello settimanale che è all'incirca questo no era quello 34.8 sì sì più o meno sì e altrimenti c'è i 36.002 e i 40.000 sempre come livelli crescenti sono un po' le resistenze da tenere sotto controllo poi se al contrario continuiamo non facciamo nemmeno un rientro ai 34.600 che è la prima resistenza forte quella settimanale ma la usiamo per fare un bearish retest una prosecuzione ribassista niente vuol dire che l'offerta ha ancora in mano la situazione non deve essere per forza così forte potremmo anche andare a zuccarci contro e poi ritracciare di nuovo con la forza gravitazionale stiamo stiamo pure a vedere questo è il quadro da tenere sott'occhio quello settimanale è il più importante ci fa vedere la domanda qua sotto ci fa vedere questo livello quanto è importante e quindi primo obiettivo per i bull tornare lì dentro prima di allora a meno di non fare di non aprire posizioni di breve tipo quella anticipatrice che vi ho detto prima operare non ha molto senso ecco me ne starei a guardare eth 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 allora eth pure lui è un grosso punto interrogativo di nuovo perché adesso qua sembra aver fatto un higher low sembra qua ci sono ancora tutti i suoi lower high e quindi c'è da capire poi in che direzione avrà intenzione di andare tra l'altro l'ap famoso quando è che arriva adesso devo guardare bene un po' il calendario perché sono curioso di vedere cosa accadrà quel giorno cioè se ci sarà un pump o un dump o niente perché ormai se ne parla da mesi e quindi penso che sia già priced in non cambia nulla rispetto a quanto detto le scorse volte dobbiamo stare attenti che non venga persa quest'area quindi la perdita ripeto della 00555558 questa zona qua andrebbe a costruire un top fatto in questo modo e quindi non benissimo perché poi andremo incontro a una probabile fase ribassista più duratura non ci siamo poi per quanto riguarda il resto delle altcoin dominance sempre a tendenza crescente quindi non è ancora il momento per quanto mi riguarda di cercare le posizioni speculative vediamo se riprenderà il downtrend in futuro le andremo a cercare oppure se scaricheranno a dovere le altcoin di solito nei bear market se dovesse continuare il bear market le altcoin si prosciugano un po' quindi mi aspetto più una cosa del genere però è ancora tutto da vedere se bitcoin ha intenzione di fare un'altra botta ribassista per il resto tutto tutto come sempre anche guardate la capitalizzazione totale ha rimbalzato su questo supporto vi ricordate l'avevamo identificato un po' di tempo fa come supporto che attualmente sostiene c'è stato il rimbalzo e al momento stiamo sfidando un po' quella che è la resistenza ma anche qui non ci dice nulla di nuovo ci dice che stiamo scendendo in questo canale ribassista un po' in preda alla forza di gravità esattamente quello che accade su bitcoin se perdiamo anche questo supporto quello sotto in realtà è appena qua sotto dopodiché c'è un altro supporto all'incirca qua il che significherebbe perdere ancora un altro 20% insomma teniamo teniamo duro dai bitcoin fai il bravo e tieni botta allora bene questo è quanto direi io con questo avrei terminato le analisi dei grafici vorrei avere più soldi da investire amico mio è un po' il problema di tutti questo è un po' il pensiero di tutti qui in Italia come si può farci pagare in cripto per dei lavori guarda io spesso vengo pagato in cripto ovviamente la fattura la si fa in euro basta provare l'incasso e utilizzare piattaforme io personalmente per questi scopi utilizzo piattaforme italiane così sono pienamente complianti con le normative europee e l'importante è avere la tua fattura per dichiarare essere tassato e la prova della provenienza dei fondi per un punto di vista proprio dell'antiriciclaggio queste sono le due cose a cui stare attenti altrimenti se fatto questo non hai nulla di che preoccuparti è un metodo di pagamento come un altro se lo converti istantaneamente in euro non ti fai sbattimenti per le plus valenze mica plus valenze e siamo lì amici miei l'ultima domanda come faccio a iniziare a imparare qualcosa in questo mondo e iniziare a entrare allora prima impare poi entra questo è il mio consiglio per imparare spulciati un po' dei miei video passati vai a vedere anche findmatics vai a vedere tutti quei canali che spiegano i fondamentali cerca di capire guarda credimi online trovi tutto gratuitamente non c'è bisogno di acquistare corsi di acquistare cose è tutto tutto gratuito il bello dell'online è questo e quindi questo è il mio consiglio ci sarà da investire del tempo ma non te ne pentirai amici io per fare un milione scusate se mi interrompo ma leggo domande splendide per fare un milione di euro in un anno con quanto devo partire senza rischiare molto ma che domanda è che domanda è dai smettetela di trollarmi smettetela di trollarmi il corso trading consapevole è il top grazie vi ringrazio davvero vi ringrazio davvero quello ovviamente orientato più al trading e meno ai fondamentali è un argomento a parte bene amici io con questo vi lascio andare perché a venerdì sere avrete di meglio da fare presumo quindi passate un buon weekend noi ci vediamo come sempre lunedì alle 18 e 30 sempre sul pezzo sempre in diretta e vediamo analizzeremo la chiusura settimanale analizzeremo le novità e così via mi raccomando fatti bravi passate un buon weekend lontani dai grafici state sempre sul pezzo però perché insomma qualcosa bisogna ogni tanto percepire io vi faccio un carissimo saluto e a lunedì grazie a tutti